La Fondazione Frammenti di Luce, in collaborazione con Teleradio Padre Pio, vuole offrire quest'anno uno speciale percorso di meditazione attraverso l'arte, attraverso la parola, attraverso l'immagine. Ci ritroviamo qua con Don Maurizio Lieggi, con Don Mario Castellano e con Don Alessandro Manuele, con me, Suor Cristina, e insieme con la Fondazione Frammenti di Luce vi accompagneremo in questo speciale percorso. Ormai da diversi anni la Fondazione Frammenti di Luce offre un percorso di evangelizzazione attraverso l'arte, attraverso la forma particolare del concerto meditazione, dove attraverso il coro, attraverso la danza, attraverso le immagini, si vuole percorrere la via della bellezza per contemplare il grande mistero di Dio e del suo amore per l'uomo. E questo cammino di Quaresima vedrà proprio impegnati il coro, tutta la fondazione, in questo percorso di contemplazione, che vivremo in una chiesa della diocesi di Bari Bitonto, la chiesa del Salvatore di Loseto, una parrocchia nella periferia di Bari. Uno spazio sacro, liturgico, che ci ha accolti proprio per vivere questo cammino di bellezza, di ascolto della parola, di meditazione. Ogni settimana ci condurrà la parola di questo tempo e potrete gustare, insieme a questa parola, delle contemplazioni fatte con dei brani che abbiamo registrato dal vivo nella chiesa di Loseto, qui nella diocesi di Bari, e saranno collegati a dei brani che abbiamo registrato negli anni nei nostri concerti di meditazione, che la fondazione Frammenti di Luce ormai da parecchio tempo porta avanti. Abbiamo pensato questo speciale percorso insieme con voi, per poter camminare nella parola di questo tempo liturgico forte che ci mette sempre di più attraverso queste contemplazioni nella profondità, nella luce della vita nuova. Grazie per la visione! Grazie a tutti!